Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con 15 minuti con la trasmissione di approfondimento di Free TV Oggi ci occuperemo della questione lavoratori precari al Comune di Comiso Lo faremo con l'ex assessore al bilancio del Comune, Raffaele Puglisi Intanto buonasera ex assessore Buonasera, buonasera a voi, grazie per l'invito Allora iniziamo subito dall'inizio per cercare un po' di chiarire ai nostri telespettatori La situazione dei lavoratori precari al Comune di Comiso Nel 2009 l'amministrazione Alfano fege un'operazione di stabilizzare circa 200 dipendenti Ecco partiamo da qui Sì, allora partiamo forse anche da un po' prima La situazione che noi abbiamo trovato al Comune di Comiso nel momento in cui ci siamo insediati nel 2008 Noi abbiamo trovato a fronte di poco più di 200 dipendenti di ruolo Abbiamo trovato oltre 300 tra lavoratori a contratto a tempo determinato e cosiddetti ex articolisti Quindi una massa di precari enormi che ci dava non pochi problemi E ci assillava dal punto di vista di trovare una soluzione per cercare di mettere fine a questa situazione Da lì abbiamo iniziato subito un processo di stabilizzazione Già alla fine del 2008 la nostra prima delibera fu quella di dare il via ad un processo di stabilizzazione Nel contempo continuando a prenderci anche la responsabilità di continuare a prorogare tutti i contratti che c'erano in essere Avete deciso di stabilizzare queste 200 persone? Quali criteri sono stati utilizzati? Sì, i criteri erano quelli dettati dalla legge del 296 del 2006, cioè la cosiddetta finanziaria del 2007 e poi la finanziaria del 2008 Erano le linee guida che avevamo a disposizione Quali erano i criteri? I criteri erano quelli che appunto dettava la legge di avere almeno tre anni di rapporti con la pubblica amministrazione Nel quinquennio precedente, questo era in linea di massima il principale requisito che si chiedeva ai dipendenti Una parte di questi dipendenti, di questi contrattisti chiamiamoli così, non aveva questo requisito Quindi dopo qualche mese si è dovuto rescindere un rapporto con il comune di Comiso Alla fine del 2009, quando poi prese proprio il via il vero processo di stabilizzazione Quindi con i concorsi interni, circa 200 persone O meglio in un primo momento 180 Poi dal gennaio successivo ne furono poi assunti un'altra ventina Quindi in totale ad oggi sono circa 200 i dipendenti stabilizzati al comune di Comiso Questi dipendenti in realtà non tutti erano a tempo determinato Quindi diciamo quelli che potevano aspirare ad avere immediatamente un contratto a tempo indeterminato Bensì una cinquantina circa invece erano cosiddetti contrattisti Quindi contratti co-co-co, co-co-pro Questo non si capisce neanche come erano stati fatti questi contratti negli anni precedenti Dalla precedente amministrazione Perché senza alcun criterio c'erano lavoratori a cui veniva fatto un contratto a tempo determinato Ad altri invece contratto di collaborazione Così, senza nessun criterio, nessun motivo di fondo Di fatto, di fatto, questo è il punto Tutti questi lavoratori svolgevano un lavoro di tipo subordinato Addirittura la stragrande maggioranza di questi aveva il badge Che tranquillamente quindi timbrava ogni mattina Quindi di fatto si configurava e si configura per tutti un contratto di lavoro di tipo subordinato Ecco appunto, una parte, quindi una grossa parte è stata stabilizzata subito Un'altra parte, quindi abbiamo detto circa una cinquantina di lavoratori Invece ha dovuto seguire un percorso diverso E così arriviamo ai giorni nostri e a quello che sta succedendo in questi giorni Ovvero che dal primo gennaio 2013 queste persone potrebbero non avere il contratto Diciamo di stabilizzazione così come era stato loro prefigurato tre anni fa Sì, circa 150 persone ebbero dal primo gennaio 2009 un contratto quindi a tempo indeterminato Chi aveva avuto un contratto a collaborazione rientrava nella fattispecie di quei lavoratori Che dovevano avere un contratto prima di tre anni di tipo a tempo determinato Quindi con una cosiddetta prestabilizzazione Per poi dal primo gennaio 2013 trasformarsi automaticamente in contratto a tempo indeterminato Giustamente oggi alla vigilia del primo gennaio 2013 Ci si chiede che fine faranno questi lavoratori Perché nel frattempo sono intervenute alcune novità Di non poca rilevanza purtroppo Tra queste novità diciamo le quali sono A parte il distesto finanziario di Comiso anche normativa a livello nazionale Sì, diciamo che la cosa più importante intanto è il distesto che è stato poi dichiarato a gennaio di quest'anno Ma nel frattempo varie leggi che si sono susseguite Prima fra tutti la cosiddetta legge Brunetta Quindi il decreto 112 Ha bloccato di fatto ogni possibilità Alle amministrazioni di fare assunzioni Quindi questi lavoratori si ritrovano Oggi alla vigilia appunto della scadenza del loro contratto Con un grosso punto interrogativo Sul quale sarà il loro futuro Giustamente Dico giustamente Io allora fui parte protagonista in quanto membro della Giunta E quindi diciamo coautore di questa stabilizzazione Che per inciso voglio aprire una parentesi se me lo consenti Io non avallai in toto comunque così come è stata fatta L'ho definita in altre occasioni una porcata Perché alla fine noi abbiamo finito per di fatto accelerare poi il processo che ha portato al dissesto del comune Perché una massa di lavoratori così grande all'interno poi di un comune di soli 30.000 abitanti Ha portato poi ad un diciamo in una situazione proprio di collasso finanziario Che diciamo da lì a poco poi sarebbe avvenuta Di fatto io diciamo alcuni atti non li firmai Proprio perché in disaccordo con il resto con il sindaco e con il resto dell'amministrazione Devo dire però che comunque non sono contrario alla stabilizzazione Perché non teniamo conto che tantissimi di questi lavoratori Se penso agli ex articolisti da oltre 20 anni prestano servizio al comune E quindi comunque andavano stabilizzati Ma alla fine un apparato burocratico così massiccio, così grande Ha finito, ripeto, per accelerare il collasso economico E anche il finanziario del comune di Comiso Adesso che la questione sta prodando nell'altare Quindi al tribunale amministrativo regionale Davanti anche al giudice del lavoro Anche davanti al giudice del lavoro Di solito in questi casi si tende a dare sempre ragione al lavoratore Quindi quale futuro si potrebbe prospettare per il comune di Comiso Quindi a assumere queste 48 persone 39 hanno presentato il ricorso Ma guardi, allora io intanto Bene hanno fatto questi lavoratori A presentare il ricorso al giudice del lavoro Fermo restando che la normativa che avevamo a disposizione noi nel 2009 Era quella Cioè la legge ci imponeva E diceva che Chi aveva un contratto a tempo determinato Ripeto, automaticamente Si trasformava stabilizzando Si trasformava in contratto a tempo indeterminato Chi aveva un contratto di collaborazione Doveva passare da questa fase di prestabilizzazione E quindi fare tre anni a tempo determinato Per poi essere stabilizzato Quindi da questo punto di vista Non abbiamo nulla da rimproverarci Noi come amministrazione Né il sindaco Alfano Bene hanno fatto questi lavoratori Dico ad adire alle vie legali Per un motivo molto semplice Proprio per quello che dicevo prima Questi lavoratori Proprio perché di fatto Svolgevano un lavoro di tipo subordinato A tutti gli effetti Addirittura timbrando il cartellino A questo punto bene fanno A farsi riconoscere dal giudice Questo tipo di lavoro Che cosa comporterà questo comune Comporterà forse un secondo dissesto Se mi si consente il termine Perché si dovranno andare a Pagare intanto gli arretrati A questi lavoratori Andare a ricostruire la carriera Anche lavorativa Dal punto di vista previdenziale C'è gente che è entrata Sette, otto, dieci anni fa E quindi nel momento in cui Il giudice darà la loro ragione Si dovranno pure risarcire queste persone Devo altresì dire anche un'altra cosa Guarda caso questi 52 Perché in totale sono 52 I lavoratori a tempo determinato A cui scadrà il 31 dicembre il contratto Solo di questi 52 Solo 40 a quanto pare hanno fatto il ricorso Ma di questi 52 Sono tutte le figure Diciamo tutti gli operai Di cui il comune Guarda caso ha un estremo bisogno Un'estrema necessità Quindi a differenza di altri Che sono poi andati ad affollare Gli uffici o le scrivanie Questi 52 dipendenti I lavoratori Sono proprio le figure Di cui il comune Ha maggiore Il nostro ente ha maggiore necessità Quindi ripeto Per poi dire Comunque che stiamo parlando Di 52 lavoratori Quindi 52 famiglie Che a questo punto Vanno assolutamente tutelate A chi dice Che questi lavoratori Comunque sono già inseriti Nella pianta organica E che comunque Non comporterebbero A partire dal 1 gennaio 2013 Alcun aggravio perrellente Lei come risponde? Allora sì Sono già inseriti Nella dotazione organica Ma c'è da dire Anche un'altra cosa Perché subito dopo La dichiarazione di dissesto Uno degli atti Che diciamo Comporta proprio il dissesto È la revisione Della dotazione organica In base a parametri Ben stabiliti Che la legge ci dà In base a questa Rideterminazione Della dotazione organica La dotazione organica Del comune di Comiso Passa ora Non ricordo Esattamente a quanto Ma comunque Con un eccesso Di 15 o 16 persone Quindi ad oggi 15 o 16 lavoratori A tempo pieno O viceversa 30 Part time Andrebbero già messi In mobilità Da subito Perché comunque Questo è quello Che ti impone Il dissesto Quindi ripeto Già la dotazione organica Attuale È superiore A quella Che ci impone La legge E quindi Insomma Ci avviamo verso La conclusione Secondo lei Come finirà Quale sarà la via d'uscita Da una parte Abbiamo i lavoratori Che comunque hanno I pieni diritti E hanno fatto bene Sicuramente A fare il ricorso Al giudice del lavoro Da una parte Abbiamo il dissesto Che impone Quindi ulteriori tagli Invece di assunzioni Quindi alla fine Questo braccio di ferro Come finirà Ma diciamo che Insomma il cane Che si morde la coda Alla fine Io dico questo Ripeto Vedremo che cosa Il tribunale Del lavoro Come si pronuncerà Ma da qui Ai prossimi mesi Io personalmente Sono convinto Che il giudice Darà la loro ragione Con tutte le conseguenze Che ci saranno Però voglio dire Questa sarà Una operazione Che richiederà Diversi mesi Insomma la sentenza Non sarà domani Cioè tipo Il comune Si è costituito Ha nominato Legale Sì Ha nominato L'avvocato Ottaviano La prima udienza Sarà Se non sbaglio A novembre Ma si protrarrà Per diversi mesi Immagino Intanto c'è il problema Che già Dal primo gennaio Questi lavoratori Si troveranno Tra virgolette In mezzo a una strada Ripeto Con L'aggramante Che si tratta Proprio Di figure Di cui il comune Di Comiso Non può fare a meno Ed ha estremo bisogno Estrema necessità Quindi non so se L'amministrazione Sta pensando Di risolvere O comunque Ad divenire Ad una soluzione Anche con L'aiuto Dei sindacati Per cercare Di trovare Una via d'uscita A questa Situazione Ma ripeto Sarà importante Capire poi Come si pronuncerà Il tribunale Bene Il nostro tempo A disposizione È terminato Noi ringraziamo Per questo Insomma chiaramente Per il suo punto di vista L'ex assessore Al bilancio Del comune di Comiso Raffaele Puglisi Grazie a voi Grazie Buona salata L'appuntamento Con i nostri telespettatori E per una prossima puntata Di 15 minuti com Di 15 minuti comune di Comiso